A me della recitazione non me ne frega niente. Mi manda mia madre. Tua madre? Sì. Io non sono qui per nessuna e per nessuna ragione. Ricordo come se fosse adesso. Ti faccio vedere dove giocavano i miei figli, guarda. Che ha fatto questo cimentale? Fuck you! E poi cos'è questa storia di Bob Wind? Sto scrivendo un libro sul teatro degli anni 70 e 80. Badushu! Si rende conto che il teatro sta cambiando in tutta Europa? Portiamo la gente come una scena. o se lo faccia da solo il teatro popolare. Ma lei come si permette di entrare nella vita delle persone, di fare domani? Ma chi è lei? Che cosa vuole? Sono una giornalista. Le facciamo inchieste? È semplissima. Nel mio libro c'è un capitolo che parla di un uomo a cui lei era legata. Se ne vada. Sai chi è Bob Wind? Lascia a me, c'è le forze! Andare via! Andare via! La prossima volta! E la prossima volta! Cosa credo stai in mente di fare? Roberto ti faceva vivere dei sogni. No, 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 no! Con lui niente era impossibile. Tu sei la nostra protagonista, sei la principessa. Io. Da noi facciamo il teatro senza il teatro, non so se mi spiego. Oh, mia! La gallina! Oh, mia! Cosa è comadrina? Cosa è bonjour! Bonjour. Tu non ti ricordi neanche dov'è tuo figlio? Non credo che lei stia scrivendo un libro sul teatro sperimentale. Roberto! 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 Non è finita la racconto, nulla tutto. E cosa dobbiamo fare? Il figlio di Roberto è Tommaso. Ehi, madam! Certo che mio padre ha stravolto la vita di tantissime persone. Io non faccio una cosa più piccola. Io semmai faccio una cosa più grande. Grazie a tutti.